La vivaistica e la scelta del materiale vivaistico è una delle cose più complesse in assoluto. Bisogna insegnare alle persone a gioire del divenire, del crescere le piante. Benvenuti da Roberto Massai e bentrovati su Giardino Futuro, il podcast del giardinaggio consapevole. Quando vai in un vivaio sai riconoscere un bellissimo esemplare di giovane albero da uno scarto senza speranza? Se hai dei dubbi in merito e prevedi di investire i tuoi soldi in questo ambito, l'episodio che stai per ascoltare ti farà molto comodo. È così che continua la chiacchierata fatta con Marco Rinaldi, anche detto Barone Rampante. Affronteremo molti temi che riguardano il mondo dell'arboricoltura e del tree climbing. Se sei un giovane giardiniere e vuoi approfondire questi argomenti, posso aiutarti. Scrivimi all'indirizzo robertomasai-giardinofuturo.it Intanto, goditi questo secondo episodio della miniserie dedicata al mondo dei professionisti degli alberi. Anche il materiale vivaistico ci sarebbe da aprire una bella parentesi. Spettacolare. Il materiale vivaistico... Da noi secondo te a che livelli siamo con il vivaismo? Eh, siamo messi molto bene. Guarda, non ti posso dire dove e come perché non è ancora concreta completamente, ma ho la grande aspettativa e speranza di poter piantare veramente un grande numero di alberi in un luogo deputato a questo, tra l'altro. Quindi non, diciamo, in tutta questa partita PNRR, riforziamo il concetto. Proprio un, diciamo così, una messa a dimora di un bosco planiziale. Quindi, perce, frassini. E siccome sto sgomitando per entrare nella fase progettuale, questo del materiale vivaistico è il primo tema, perché voglio piantare alberi di piccole dimensioni e di eccellente qualità. Voglio che questo luogo non sia un alberetto stile frutteto. Io voglio che sia un luogo che in qualche misura, anzi, riprendendo il buon Drenou, spero di riuscire a convincere l'amministrazione a fare anche un piccolo settore in cui gli alberi vengono messi a dimora e mai più toccati. Vengono messi a dimora molto piccoli, ma molto piccoli, il materiale proprio di quello più piccolo di quello boschivo. Stile pomodoro, eh? Quindi bravo che questo luogo venga... D'altronde, guarda, sono operazioni nel luogo dove abbiamo la sede che tu hai visto ad Assisi. Una operazione che ho fatto in questi vent'anni è stata segnalare e tutelare tutti gli alberi nati spontaneamente in dei luoghi del parco, sono 10 ettari, dove potevano esprimere la loro bellezza, e invece di piantare inutilmente degli alberi, doverli innaffiare, avere dei costi... che spesso li ho tutelati dai 10 spugliatori, dai manutentori, ho fatti in modo... E ti devo dire che sono cresciuti. Che differenza c'è, Marco, tra un albero nato da seme e allevato e uno invece preso a vivaio? A livello radicale, di potenziale di crescita, di sicurezza... Tu devi immaginare, e lo sai meglio di me in realtà, che quello che io ho fatto è già una... è già... Quello che io ho virgolette enormi salvato è frutto di una selezione. Una pioppa fa 10 milioni di semi, 100 pioppe fanno 1 billion seeds. Se loro sono alberi pionieri è anche per questo, perché devono colonizzare. E quando lo fanno, lo fanno mettendo insieme il loro codice genetico con le loro aspettative pedoclimatiche di terreno e di ambiente e quindi quando lo esprimono arrivano a fare delle cose che sono veramente pazzesche, che possono durare centinaia, migliaia, addirittura decine di migliaia di anni. La vivaistica e la scelta del materiale vivaistico è una delle cose più complesse in assoluto. Bisogna insegnare alle persone a gioire del divenire, del veder crescere le piante. E avere la pazienza anche. Io e te abbiamo già un'età in cui abbiamo visto crescere le piante, le abbiamo viste svilupparsi da quando erano piccole e adesso sono di grandi dimensioni, alcuni erano già degli alberi, adesso sono degli alberoni. Abbiamo avuto, questo è l'aspetto secondo me più complesso da gestire e da comunicare alle giovani generazioni di arboricoltori. Il tempo, l'osservazione, il dilatarsi di questa vita in uno spazio-tempo che a noi è completamente precluso. Il materiale vivaistico in Italia ha punte di eccellenza, tant'è che viene venduto all'estero facilmente e devo dirti è un po' imbarazzante, ma viste le nostre poche conoscenze, in Italia si vende veramente piantume. Mi torna utile il termine piantumare. Effettivamente piantumiamo e ume è una desinenza negativa, ma piantumiamo piante che altri non comprerebbero e non pianterebbero, non tanto solo per quello che c'è fuori, ma soprattutto per quello che c'è nella parte più importante, è sottoterra. Eh sì. L'apparato radicale andrebbe potato, per assurdo andrebbe capitozzato, e più volte e in maniera seria, cioè con una cognizione di causa, altrimenti non farà altro che esprimere quello che noi gli abbiamo dato come vizio, quello di crescere dentro un barattolo di plastica. Con acqua e con cimi. Sì, certo, assolutamente. Anche questo è un altro, ma questo è quello del concimare le piante, è come il discorso della capitozzatura, Roberto. Adesso sposto l'argomento, ma per me è sempre lo stesso. Immaginare che arare un terreno, con un arato rossovesciatore, è la più grossa idiozia che abbiamo fatto in 50 anni, sterilizzando i terreni, distruggendo tutto quello che c'è in quei preziosi 25-30 centimetri di terreno, seppellendo la vita aerobica e disseppellendo quella inaerobica, ma è chiaro che tu se vai da qualcuno e gli dici che l'aratro è stato un difetto, gli piglia un colpo, e probabilmente ti manda... Il terreno deve essere pulito, se gli dici... Pensa anche solo a piantare degli alberi come hai prima accennato, cioè bypassare tutto quello che è una successione ecologica, come avrebbe dopo un incendio, che arrivano le pioniere, arrivano le erbe spontanee, ricreano la sostanza organica, le piante spinose creano una protezione per gli ungulanti. Ecco, e invece cosa si fa? Si spiana tutto, si arriva agli scavatori, si mettono gli alberi e te le dimentichi. Come vuoi leggere e quegli alberi facciano miracoli? Ma poi la cosa meravigliosa è quando leggi su un capitolato come ultimamente terreno fertile e lo trovi fertile di laterizi, pezzi di medallo, calcinacci, magari anche con sostanze chimiche, no? Fertile... Non puoi trovare burie. Sì, diciamo fertile per chi? Questo è ancora uno dei grossi temi del futuro, però vedi, mi piace che parliamo di questo perché poi adesso c'è questa cosa, ormai siamo nel 2024 e abbiamo i 3 climber o i climber che io non capisco bene che attività essere un climber. Secondo me c'è la differenza tra climber e 3 climber. Il 3 climber dà una certa rilevanza all'albero, l'altro, per l'altro, è solo un supporto e quindi è un qualcosa da tagliare, è un qualcosa da battere. Sì, io conosco molti arboricoltori, ho conosciuto molti arboricoltori in questi anni di grande livello. Per esempio, mi viene in mente un simpatico romano di nome Giordano che ha piantato, te lo posso assicurare io, centinaia di migliaia di euro di alberi. Ha piantato veramente una marea di piante. Sì, ha partecipato anche a degli abbattimenti importanti, senza mai essere su un albero con una motosega di più di 35 di cilindrata. Ok? Una sua scelta. Conosco arboricoltori che non hanno mai arrampicato gli alberi che hanno lavorato dalle PLE in collaborazione magari con Country Climber di grandissimo livello e che sanno piantare le piante molto meglio di tanti che si dedicano all'arrampicata e che trovano svilente. La voglio dire questa cosa. Per me da sempre, io ho fatto anche per parecchi anni il lavoro di giardiniere. Per me da sempre questa parte è una parte del lavoro di chi lavora con le piante. Non è una parte esclusiva e alternativa e diversa. Anzi, trovo imbarazzante spesso avere a che fare con persone che magari sì, sanno tutto di tutti gli attrezzi che ci sono sul mercato e poi mancano delle minime conoscenze sul terreno di botanica di biologia ecologia ecologia esatto e di tutto E lì manca la passione probabilmente e lo studio perché è fatica diciamoci anche te qualche libro te lo sei letto se non c'è la passione mettersi a studiare è fatica più che stare tutto il giorno in una motosega. Non riesco a non dire che è uscito questo nuovo libro come probabilmente sai di seconda edizione la prima tradotta in italiano della potatura degli alberi ornamentali di Drenou del quale avevo la prima edizione che è in spagnolo questo anche sempre per rimarcare il libro è stato tradotto in spagnolo nel 2002 la pota dello sarbole estornamentale per arrivare da noi abbiamo dovuto aspettare il 2024 invito gli ascoltatori ad acquisirlo ad acquistarlo a studiarlo non a leggerlo è un libro un bel libro di biologia non è un piccolo aggiornamento della prima edizione hanno fatto un lavoro nonostante ancora non sono riuscito a leggerlo tutto perché mi è arrivato pochi giorni fa perché qui con i traghetti le cose le cose arrivano sempre un po' dopo però invito veramente tutti quanti perché è un po' quello che diciamo dà ancora un po' più senso dopo la cura dell'arbero ornamentale in città di Peter Klug che è stato il primo testo in italiano che un pochino ha sdoganato alcune cose no? io quando ero giovane mi dicevano che facevo la potatura dolce e io rispondevo perché la vostra è amara la potatura non è né dolce né amara la potatura è corretta se si conosce la biologia e se diciamo il quantitativo di verde che si rimuove da un albero ha un senso altrimenti non è potatura io dico spesso che la potatura è sopravvalutata cioè se una pianta spesso le vedo anche in contesti naturali a parte l'autoputatura del secco che è fisiologica lì uno può intervenire per ragione di sicurezza ma se una pianta parte bene dall'inizio e ha tutte le condizioni per potersi sviluppare la potatura è inutile cioè a meno che io sono perfettamente d'accordo per lo meno per la salute della pianta per la sua vitalità poi è chiaro se c'è un difetto strutturale avviene anche tipo una codominanza tagliarla quando è quattro centimetri e ricreare e ritrovare un suo leader e aspettare che diventino due diametri con corteccia inclusa è chiaro che è molto diverso un taglio un taglio nel momento giusto può dare a una pianta un futuro diverso ma lì ma siamo ancora ma siamo ancora un futuro questo lavoro certo a voglia è questo il tema capisci io adesso stiamo facciamo formazione anche nel verde diciamo ornamentale quindi corsi di manutentore eccetera giorni fa hanno postato un ginco bifido ma no da vivaio bifido dall'inizio del vivaio cioè due codominanti con una corteccia inclusa già di un metro su una pianta di quattro metri e i due ragazzi dicono no perché ho il dubbio perché se ne vedono tanti come questo e chiaramente lo spacciatore è lo stesso vivaio dove c'è una partita di queste piante terrificanti che e questo è un po' e questo è un po' quello che accade insomma è chiaro che se il committente è l'ultimo a poter sapere di qualità vivaistica se non ne sa neanche nulla quello che lo pianta che lo mette a dimora un albero è evidente che è brutto da dire perché è un mestiere molto complesso però è pur vero che alla fine chi vende le piante è un commerciante ma anche chi le pianta è un tramite poi pensa solo a fatturare a far girare la propria economia ecco secondo te Marco una figura anche di consulenza fiduciaria del cliente che magari oltre a progettare un giardino segue anche la scelta del materiale vivavistico di come viene messa a dimora dovrebbe essere la normalità quanto vale nel risultato finale anche in un bel investimento in un giardino di un certo importo avere una figura che è determinante fa la differenza fra il successo e l'insuccesso considerando che l'insuccesso tu lo vedi magari vent'anni dopo venticinque e che se ci sono dei difetti sono irrimediabili poi è talmente distesa nel tempo la loro esistenza che quando ci mostrano i loro problemi è tardi questo vale sia per le fitopatologie che per i problemi di natura biomeccanica e poi però c'è l'atteggiamento nostro perché l'hai detto bene insomma alla fine mi piacerebbe narrarti una cosa che è accaduta da poco credo fortemente in quello che vi racconto insomma noi abbiamo la scuola abbiamo la fortuna di avere il sentiero di Francesco D'Assisi che attraversa il nostro centro di formazione come si chiama il tuo centro cioè io lo so chiaramente ma è giusto hai ragione io l'ho ancora citato ma avendo a un certo punto della mia esistenza risolto la mia sindrome da barone rampante un po' egoica e grazie all'aiuto di tante persone e anche di mia moglie abbiamo fondato alberi maestri che sono plurale non è l'albero maestro e non sono io e dà un po' più il senso collettivo di più un anno fa ho fatto la scelta personale di condividere con tutte le persone che hanno collaborato in questi anni tanti con il nostro centro di formazione e abbiamo creato un consorzio quindi si chiama adesso alberi maestri consorzio siamo ad Assisi e il consorzio è stato chiamato Roberto per fare un preventivo metti da 20-25 mila euro con lo sbattimento per l'abbattimento di alcuni lecci questi lecci sono radicati in un luogo che io pur non essendo un credente e un frequentatore assiduo delle chiese è un luogo che io ritengo sacro perché è l'eremo delle carceri di Francesco d'Assisi e diciamo sommariamente si è staccato un ramo che era secco da almeno una quindicina d'anni è rimasto appeso a dei rami si sono spaventati è passato un agronomo confuso e ha detto beh se la neve questi sono pericolosi rompono la chiesina del 1400 leviamo questo 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 e questo per cavolo e devo dire che i miei colleghi sono andati a vedere gli alberi hanno fatto il copolo del preventivo e poi mi hanno detto secondo noi quegli alberi non sono da levare io quegli alberi li conosco molto bene sono secolari imbarazzanti perché sono secolari di dimensioni sì però sai quegli alberi nascosti allo sguardo dei più quelli che siccome non hanno due metri di diametro non sono secolari sono dei lecci che escono da un muraglione di pietra eh sì ma le lele di crescita attaccate in un posto dove ho fatto gioire due giovani agrotecnici che mi sono portato la domenica perché ho deciso che mi sarei messo come una sequoia sulla ferrovia per l'Ovest negli Stati Uniti di traverso ti posso dire con una certa soddisfazione che oggi sono andati tra l'altro credo che conosci Stefano Raiano Tommaso e hanno fatto meno di un quinto del preventivo fra valutazione di stabilità e potatura polizia una rimonda del secco non so bene ma credo che abbiamo tagliato lo 0,1% di verde su quegli altri perché non ce n'era nessuna nessunissima ragione ci sopravviveranno pensa se al posto tuo era capitato un giardiniere che non sapeva cosa far fare ai propri dipendenti una cosa terribile faceva la legna sì faceva la legna anche perché quando ci hanno chiamato hanno detto che non gli serviva neanche la legna che si riscaldava per la salere ma per cui una cosa veramente terribile io invito tutti andare a vedere quel luogo magico se possibile in autunno se possibile quando in infrasettimanale c'è la meraviglia di trovarsi anche da soli in compagnia di quelle creature il padre mi ha detto no ma perché è pieno di alberi ma la chiesina del 1400 e io gli ho detto padre la chiesina si ricostruisce non credo che avesse le gronde nel 1400 e se cadono due coppie e li rimetteremo a posto e poi San Francesco aveva più rispetto degli alberi che non delle costruzioni hai capito è stato il primo ambientalista della storia dell'umanità guarda Marco San Francesco gli ho dedicato un episodio parlando ho letto dei libri e quant'altro perché era proprio un illuminato sono d'accordissimo il primo che lui è l'unico Francesco era veramente un illuminato hai usato un termine che io utilizzo spesso per per il fratello tant'è che gli fu dato un po' una una luce un po' eh beh ma è molto strano che non fosse stato bruciato sui suoi amici alberi all'epoca come eretico e ci è andato anche vicino Giordano Bruno fece la fine lì invece hai capito quindi diciamo che ecco però io credo che il rispetto che lui ha avuto e ha condiviso tramandato sono passate centinaia di anni no? eppure è attualissimo è attualissimo cioè con i temi ambientali di adesso è proprio incredibile leggere San Francesco è stato il primo è stato assolutamente il primo a vedere anche alcuni aspetti di carattere proprio ecologico i dominicani dicevano ora et labora piantiamo adesso perché fra cento anni facciamo la legna e piantiamo tutti i alberi che da secolari verranno su dritti e ci faranno monocultura e invece Francesco diceva che il bosco cresce da sé e va fatto crescere come lui sa e questo è una visione che se pensi veramente rivoluzionaria la grande sua rivoluzione è nel estendere i nostri fratelli e sorelle anche agli altri esseri viventi guarda è incredibile per l'epoca perché a tutt'oggi con gli studi che ci sono a livello ecologico ci rendiamo conto che alla fine noi siamo l'ultimo anello della catena gli ultimi arrivati cioè la vita qui è iniziata grazie ai microrganismi poi alle piante poi al resto degli animali e gli insetti cioè tutto collegato noi siamo proprio i più quando dici noi parli quando dici noi parli noi esseri umani io e te nel senso che noi esseri umani nel senso se io ti dico non uccidere non so se c'è questa coscienza e questa consapevolezza così a vedere quello che stanno facendo in giro Roberto ok ma allora mettiamo caso di essere persone di fede persone religiose vogliamo applicare i comandamenti allora benissimo non uccidere chi perché se tagli un albero senza motivo è già un essere vivente che lo uccido oppure pensa anche al fatto di amiamoci tra fratelli e sorelle chi sono i nostri fratelli e sorelle cioè i familiari i consanguigni i paesani i nazionali gli animali la razza umana o anche gli insetti e i lombrichi cioè in questo la chiesa in questo la chiesa ha lavorato parecchio e male non c'è dubbio ma anche semplicemente insomma è sul genere pure se pensi a Francesco e Chiara e pensi ai preti e alle monache e non è che c'è proprio un parallelismo di percorso diciamo è stato un antesignano anche da questo punto di vista se vedi anche il modo di vedere la realtà la rappresentazione della nostra realtà è molto lineare vede poi un po' anche a livello rinascimentale l'uomo in cima alla piramide addirittura le piante al pari delle pietre perché non sono senzienti se vai a vedere magari altre culture tipo anche culture orientali c'è una visione un po' più circolare un po' più olistica allora quindi anche la religione dà le credenze e poi detta le nostre azioni se ti danno del vegetale non ti fanno un complimento anche se in realtà spesso le persone non capiscono nemmeno vivo e vegeto eh sì ci incavoliamo anche se ti danno dell'animale noi siamo superiori a tutto però sì esatto c'è proprio una visione antropocentrica ma degli schemi sociali tutto quello che ci circonda è fatto a nostra immagine e somiglianza forse effettivamente sarebbe un pochino meglio cominciare a copiare sia gli animali che la natura in generale in particolare le piante perché esprimono ne parlavo questi giorni il dire che una pianta soffoca un'altra pianta anche quello è un retaggio sbagliato cioè si pensa che ci siano solo competizioni quando invece è un insieme di relazioni c'è una collaborazione che non si sarò leggermente polemico è singolare che a volte nel mondo dell'arboricoltura ci sia questo atteggiamento poco collettivo e molto competitivo quando per tutti noi i nostri esempi dovrebbero indurci proprio a scegliere ad agire altro ti ringrazio tra l'altro per l'invito mi ha fatto molto piacere dovrò assolutamente mettermi in pari e vedere le altre interviste perché so che nei fatti di belle è a bella gente e credo che sia la cosa più importante in questo momento per esempio noi arboricoltori sono convinto che se riuscissimo a trovare un trade union e andare insieme in una direzione saremo molto più efficaci nel cambiare anche la relazione con le pubbliche amministrazioni la relazione con le persone con i clienti ed è tra l'altro ineluttabile è una cosa che in parte sta già avvenendo e che avverrà sempre di più che ha però un po' fatto faticare in questi anni di sviluppo di questa attività in questo strano paese sempre un po' indietro basterebbe anche solo unirsi per far riconoscere chi è competente da chi non lo è cioè io mi domando ma cavoli mi ci inferverò anche per far controllare la caldaia una volta all'anno sei obbligato a chiamare il caldaista viene te la smonta da una soffiata ti prende cento e passa euro se ne va ti fa firmare un pacco di fogli perché la caldaia può succedere di tutto allora se un albero insiste su una strada su un parcheggio su una scuola è alto 20 metri e se cade o si rompe un ramo fa dei morti perché ci può mettere le mani chiunque solo perché succederà il fattaccio fra 10 15 20 anni e non si sa più chi è responsabile o peggio ci può mettere le mani non chiunque ma solo chi ha dei titoli di studio dove se vai a vedere in accademia non c'è nulla che riguarda questo ambito ma io mi sono ritrovato Marco a andare con dei con dei responsabili del verde a valutare dei lavori da fare e parlavano eh sai questi tigli sono da fare questi tigli questi tigli dopo un po' si guarda sono platani non tigli cioè capisci nel senso cavolo sei responsabile del verde e non riconosci non conosci nemmeno le piante di cui stai parlando e loro ti chiedono consigli secondo te come si potrebbero potare come cioè dovresti essere te che sei l'amministratore ora ci sono anche delle figure te insomma sei una di quelle certificate no a livello europeo tra chi opera e chi dovrebbe invece organizzare monitorare ecco ma perché queste figure che ha queste certificazioni si sbatte tanto per riceverle poi invece non hanno nessun riscontro nessun peso come hai sentito esistono professionisti con competenza certificata ma che non hanno ancora alcun riconoscimento tutelato dalla legge del nostro paese mentre in altri stati europei per mettere mano sugli alberi serve questa abilitazione invece da noi ancora chiunque può dire la sua e tagliare a piacimento perfino alberi di importanza rilevante nel prossimo episodio affronteremo questo e altri temi scottanti che riguardano i nostri amici giganti verdi mettilo in agenda ci risentiamo tra una settimana e se nel frattempo ti servono soluzioni mirate per il tuo giardino puoi contattarmi per una consulenza personalizzata su www.giardinofuturo.it e ricorda il futuro del tuo giardino dipende anche dalle scelte che fai oggi ti do appuntamento alla prossima ciao ciao